Caro il mio Google Pixel 3a, oggi tocca a te, oggi tocca a te e mi raccomando non farmi fare brutta figura perché questi ragazzi hanno comunque fatto tanto chiacchierare all'interno del video iPhone SE quindi la recensione barra non recensione perché la mia è stata più una chiacchierata no? E proprio da quella voglio ripartire, quindi ci siamo detti che io non comprerei mai un iPhone SE per il display troppo piccolo e per alcune cose che a me non sono piaciute però ecco, oggi vi voglio consigliare una cosa perché nelle live su Twitch vi lascerò qua sotto in descrizione il link mi raccomando lunedì, mercoledì, venerdì e domenica sono in live dalle 21.30 quindi se non rispondo a tutti i vostri commenti qua sul canale ma venite in live mezz'oretta con me e chiedetemelo dal vivo, è ancora più bello, c'è ancora più interazione tra di noi, ok? Detto questo ragazzi ci siamo detti troviamo un'alternativa all'iPhone SE troviamo un'alternativa Android però da non spendere tanto quindi ci siamo dati come budget massimo 300 euro poteva essere lo Xiaomi Mi 9 SE? Sì, poteva essere perché comunque è uno smartphone compatto e vi offre ottime caratteristiche però io non volevo uno smartphone Xiaomi, io volevo un ecosistema, volevo gli aggiornamenti volevo un simile Apple, ok? E quindi secondo me il Google Pixel 3a in attesa del 4a è una valida, validissima alternativa vi racconto anche questa, Giacomino non so se stai guardando questo video in caso ti saluto gli amici del calcetto di tutti lunedì che ancora non ci possiamo vedere mi ha chiesto tempo fa, mesi fa eh ma che telefono compro? Dimmi un telefono da comprare, mi fido di te però lo voglio compatto, con la fotocamera che funzioni bene perché voglio fare belle foto e voglio fare bei video voglio un bel display, magari lo voglio OLED, AMOLED e voglio spendere una certa cifra, quindi non sopra i 400 euro e voglio però gli aggiornamenti perché provengo dagli smartphone che non mi hanno soddisfatto dato aggiornamenti, beh ragazzi io gli ho fatto comprare a prezzo pieno il Google Pixel 3a quindi questo smartphone che vi sto facendo vedere in questo momento, ok? Quindi perché? Perché ho scelto questo? Allora, molto semplice la cosa, aggiornamenti sempre puntuali come anche Apple un bel display 5.6 pollici OLED, 441 ppi quindi davvero ben risoluto questo display del Pixel 3a ed è un display che comunque vi garantisce l'utilizzo con una mano tranquillamente ha un feedback della vibrazione molto molto valido questo Pixel 3a non zanzarosa per intendersi e poi ha delle funzioni molto particolari perché secondo me un display del genere è l'ideale per tutta la fascia di utenza perché chi compra un iPhone 8, un iPhone SE 2020 lo voglio compatto il display, lo voglio piccolino perché l'utilizzo con una mano, perché il tornare, il vedere, il fare ok, poi vedete tutti quanti da una certa soglia d'età in su perché non pensate che l'iPhone si compra solo a 15, 16, 20, 25 anni l'iPhone si compra anche a 40, 50, 60 bene, in quella fascia d'età con un 4.7 pollici le cose sono due o tenete il telefono così perché non ci vedete da vicino è fisiologica la cosa o se no mi tenete i caratteri grossi così che con due parole occupano tutto lo schermo è vera questa cosa? fatemelo sapere qua sotto nei commenti e mi raccomando raga lasciate un like al video che è fondamentale e quindi io mi sono detto io voglio però un display per i miei utenti che sia un display adatto a tutti compatto ma che non debbano per forza mettere le scritte enormi questo Google Pixel 3a secondo me è la cosa ideale c'è da dire che Apple ha montato la 13 Bionic sul nuovo iPhone 6 2020 e il lato processore c'è poco da dire quel processore va benissimo sono mesi che lo sto utilizzando sul mio iPhone 11 Pro Max e su quello assolutamente non c'è niente da dire è difficile trovare una variante Android sulla fascia di prezzo bassa che abbia le caratteristiche di quel processore a bordo di questo Pixel 3a abbiamo lo Snapdragon 670 quindi un processore che comunque vi permette di far tutto senza nessun tipo di problema ma se volete un processore più performante perché le specifiche sono il vostro focus allora aspettate magari un Pixel 4a vi ripeto qui funziona tutto passare da un'app all'altra non c'è nessun tipo di problema multitasking è pieno tutto quello che volete però secondo me perde rispetto a una 13 Bionic su questo c'è poco da fare comunque sia ragazzi in ambito Android nel tempo si sta lavorando veramente veramente bene guardate anche questo smartphone che ho qua tra le mie mani che è praticamente alto come un Pixel 3a ma è un pelino più fine di spessore ma il display è praticamente il solito perché le cornici sono state ridotte ai minimi termini no questo giusto per farvi capire cosa si può trovare in ambito Android perché qualcuno potrebbe dire sì ma io voglio anche più prestazioni voglio un qualcosa di diverso rispetto al Pixel questo è un S20 poi ve ne parlerò più avanti nel dettaglio ma è un altro telefono che davvero con il calare dei prezzi potrebbe avvicinarsi all'iPhone SE 2020 versione 128 GB quindi attenzione perché qui si sta veramente aprendo un panorama non da poco altra particolarità dei Pixel è questa avere la migliore esperienza software per quanto riguarda l'interfaccia ma anche per la fotocamera perché loro sono veramente convinti che con una sola fotocamera con un solo sensore si possono fare foto veramente di qualità allora l'esperienza Pixel a prescindere vi offre un'ottima qualità fotografica un ottimo software e un'ottima stabilizzazione dei video grazie a questo software veramente la qualità fotografica di questo smartphone supera nettamente tanti altri perché le foto vengono bene sia in notturna sia in ambito diurno è buona anche la modalità ritratto con lo scontorno made in Google veramente io non ho mai avuto problemi nel dover scattare una foto con questo Pixel 3a sull'iPhone SE 2020 è stato montato lo stesso sensore di iPhone 8 abbiamo anche lì un'ottima stabilizzazione lato video perché secondo me Apple insieme a Pixel è tra le migliori in assoluto però ecco lato foto secondo me questo Pixel 3a vi può dare qualcosa di più per quanto riguarda la batteria non è un battery phone questo Pixel 3a non è un battery phone l'iPhone SE 2020 sostanzialmente vi dovete portare il caricabatterie sempre dietro con voi o almeno un powerbank Pixel 3a ha 3000 mAh di batteria che vi permette di arrivare a sera con circa 4 ore di display attivo questo è il massimo che sono arrivato vi può bastare come no questo dipende ovviamente il vostro uso dove comprare ad oggi questo Google Pixel 3a? allora mi raccomando link in descrizione del canale delle offerte inseritevi su Telegram perché lì possiamo tutti i vari coupon allora la piattaforma principale secondo me lato usato soprattutto dalla Germania è eBay quindi comprate un Pixel 3a grado A, seconda mano, usato quello che volete costa dai 220 euro ai 280 euro questa forbice dipende l'uso del telefono quindi dipende molto lo stato di usura del vostro Pixel 3a quindi un prezzo superiore ovviamente è un grado superiore quindi tenuto molto bene l'altro giorno addirittura in offerta dalla Germania c'era 170 euro cioè 170 euro usato va benissimo sarà graffiato forse nella parte posteriore questo non lo so dalle foto non si vedeva però è un prezzo signori 170 euro un Pixel 3a secondo me vale solamente per provare questo ecosistema e questo software made in Google ok? molti di voi l'hanno addirittura consigliato su Amazon a 360 euro ora io 360 euro vi dico sia un ottimo prezzo ma oramai aspettate il Pixel 4a che dovrebbe arrivare fine mese oppure giugno perché oramai ci siamo no? sarà con l'occhiolino qui in alto a sinistra sarà con poche cornici lato display e vediamo il prezzo il prezzo sarà sicuramente l'ago della bilancia ad oggi io mi sento comunque di consigliarvi questo smartphone quindi di consigliarvi il Google Pixel 3a voglio sapere la vostra opinione come sempre qua sotto nel box dei commenti la migliore alternativa all'iPhone SE 2020 secondo voi quale è? quindi voglio sapere anche cosa ne pensate magari per voi non esiste quindi per voi è l'iPhone SE 2020 ci mancherebbe altro lo sapete io apprezzo sempre i commenti sia positivi sia negativi purché costruttivi questo è il focus principale del nostro canale YouTube ultimamente sto vedendo commenti molto offensivi io banno cioè ciao non sto neanche più a rispondere perché mi dà fastidio cioè nel senso se mi fai un commento costruttivo ok se sei arrivato per bestemmiare eccetera te ne vai dal mio canale e vai su altri canali YouTube è pieno no? quindi non c'è nessun tipo di problema insomma fatemi sapere la vostra opinione ragazzuoli domani mi raccomando martedì 12 maggio 2020 arriverà la recensione di Realme X50 Pro ok? quindi ci vediamo domani vi racconterò quelle che sono le caratteristiche di quello smartphone Zen Dragon 865 tanta tanta tecnologia a bordo non vi spoilerò altro ci vediamo domani per un nuovo video ciao a tutti ragazzi